Shopping! Ciao! Spacchettiamo insieme un po' di cose perché un po' di cose invece le ho già usate ma in questo video appunto parleremo di shopping! Ormai niente, tutte le volte che faccio il video shopping mi viene in mente cosa siamo noi donne? Cosa vogliamo noi? Demagrire? Mangiando cosa? Pazzatine fritte? Ok non l'ho bevuto, non bevo e piove! Chiudiamo tutto! Cominciamo dalla prima cosa che ho qua davanti a me Ma sto giuffata! Vabbè! Sti capelli sono a fuoco? Ma chi lo sa? No mi sa che non sono a fuoco! Aspettate! Vediamo! Adesso sono a fuoco? Sì mi sa che adesso sono a fuoco! Vabbè casomai questo video sarà non a fuoco ma poco ci importa! Sì dai dai sì adesso sono a fuoco! Ok cominciamo da questo pacchetto che spacchetto con voi è una cosa che ho comprato da Disney Store Ormai l'avrete vista 250 milioni di volte è famosissima! Penso sia la tazza più famosa di Instagram! In questo momento è la tazza di Mary Poppins! Si vede? Praticamente ha il becco dell'ombrello di Mary Poppins E l'ho vista sul profilo di Di Maghetta! Lei è bravissima! Ciao tesoro! Ti saluto tantissimo! Con grandissimo affetto! E appunto mi è piaciuto! Ho detto no no! Devo assolutamente averla! E questa costa un boato perché costa 20,99€! Per essere una tazza! Però vabbè si fa! Quando ti piace qualcosa si fa! Poi ho comprato da H&M in negozio questa felpa! Io non ve l'ho fatta vedere vero? No! Questa felpa che però è un vestito e questa qua l'ho pagata tipo 25, 29€! È un vestito l'avete vista ecco così è grigia con le tasche qua che sono unite Con appunto il cappuccio! Io ho preso la taglia 32 che è la più piccola in assoluto perché appunto la voglio come vestito Non la voglio troppo troppo gigante anche perché sennò ti fa il sedere molto ampio e quindi ho cercato la taglia più piccolina E questa qua l'avete vista sul mio profilo Instagram perché l'ho abbinata agli stivali quelli di Fendi, quelli rossi bellissimi Ecco, mi piacciono questi contrasti così forti! Poi spacchettiamo insieme questo, il sacchetto di H&M che mi è arrivato stamattina! Come sapete io quando compro online per non sbagliare compro sempre due taglie così almeno ho modo di provare le cose E ho preso due gonne uguali e due magliette uguali Questa gonna uguale che ho preso appunto le due taglie più piccoline perché non sapevo... C'erano in negozio però non avevo voglia di andare Ho detto che le compro online Sapete quelle sere che ero riuscito a dormire ecco Ho trovato appunto questa gonna che trovo bellissima Rosanna secondo me ti piacerà tantissimo È così tutta pieghe blu e rossa L'ho trovata divina Anche questa qua secondo me sta benissimo con lo stivale rosso di Fendi Poi ho comprato una felpa di Chanel blu Infatti me la immaginavo con quella felpa, non vedo l'ora che mi arrivi E ha l'elastico in vita, quindi per quello ho scelto le due taglie più piccoline Che dovrebbero essere... Ah no, SXS ho preso Così adesso le provo e poi vi dico Appunto non avendole ancora provate, non so Comunque qua sotto nel box informazioni Vi scrivo poi come sempre che cosa ho tenuto e che cosa ho restituito Questa magliettina che mi è piaciuta tantissimo Che è proprio sulla falsa riga di Gucci Gucci ha fatto la stessa identica maglietta È un prezzo leggermente differente Ed è questa, anche questa qua ho preso la XS e la S Eccola qui con l'orso invece del lupo Quella di Gucci mi sa che ha il lupo ma è identica Ecco, non vedo l'ora di provarla Sapete che forse sta bene anche così Devo provarlo insieme Questi erano di H&M Poi da Zara Altro acquisto online, guardate che brava Non li ho spaggettati per voi Allora, ho comprato la bralette di Dior E quindi mi piaceva qualcosa che aveva sulla spalla scoperta E ho cercato appunto sul sito di Zara qualcosa a monospalla E anche qua ho preso le due taglie Ho preso sia la S che la M E questa appunto è una maglietta così Ed è tutta costina e morbida Ed è abbastanza lunga perché secondo me copre anche il sedere Ho tutto il sedere o metà sedere Ed è appunto così, con una spalla e invece con l'altra così a barchetta Quindi una spalla normale e invece l'altra a barchetta Anche queste due, non lo so, non le ho viste in negozio Le provo e vi dico qua sotto qual è meglio Se la S o la M Se le tengo o se le restituisco Poi ho fatto un altro ordine Sempre da Zara Qui c'erano ancora delle cose in saldo In saldo a 1,90 euro Ho preso questa canottiera Che però era una taglia grande Una L Ed era l'ultima E devo vedere se è gigante O se magari è una cosa fattibile Anche se la spalla così larga Sotto ascella mi piace molto Bisogna vedere appunto com'è Com'è indossata Chi lo sa? Vediamo Poi anche qua un ordine fatto Per la spalla giù Quindi ho cercato questi maglioncini qua Questo è un maglioncino tutto in cotone Largo con lo scollo a V profondo Sia davanti che dietro Che quindi rimane un po' così sceso Però lo vedo Lo vedo molto ampio Molto lungo Molto pesante anche come sensazione Ed è uno di quei maglioncini Che secondo me si tirano i fili Quindi Poi Sempre da Zara Questo che è sempre sul solito discorso Allo scollo molto molto profondo Qui Qua Allo scollo molto profondo Che quindi può essere abbassato Sulla spalla Questo è semplicissimo In filato molto leggero E questo ho preso una S Che è la taglia più piccolina Vediamo Vediamo come stanno Perché non sono fatti per essere Cioè non sono stati creati per avere la spalla giù Ma li vorrei mettere io con la spalla giù Quindi vediamo come stanno Poi Vi è piaciuto tantissimo 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 Su Instagram Questo paio di scarpe Ed è un simile Balenciaga Tutti appunto mi avete chiesto Se erano le Balenciaga No Queste sono le calze Effetto Cioè le calze Le scarpe a calzino Sono così In argento In Quasi in maglia metallica Sono leggerissime Sono comodissime Hanno questa suola di 2 cm Quindi non sono raso terra E le ho prese Allora Scusate ma io non conosco ancora le vie di Roma Avete presente la via dove c'è L'Obuten? Cos'è via Mario dei Fiori? No Non lo so Campomarzio? Non lo so Io me le confondo tutte Comunque la via di L'Obuten Ecco voi Lasciatevi L'Obuten sulla destra Andate dritto per quella via Prima della piazza Ci sono una serie di negozi Sulla sinistra Tutti di cashmere Uno degli ultimi È un nuovo negozio Che vende tutte queste cose qua A poco Infatti le ho pagate 34 euro E appunto le ho prese lì Poi con la mia amica Clizia Ciao tesoro È venuta a Roma A trovarmi E cosa abbiamo fatto insieme? Siamo andate da MAC E da MAC abbiamo Ho comprato Tre pennelli Due pennelli Che mi ha consigliato lei Per il fondotinta E un pennello Che è questo Perché Mi ha detto Che praticamente MAC sta togliendo Tutti i pennelli Con le fibre naturali Stanno diventando Tutti sintetici Quindi se anche voi Siete appassionati Dei pennelli MAC Con le fibre naturali Correte Prendete tutto quello che c'è Perché poi appunto I prossimi Saranno tutte sintetiche Quindi Mi sono presa Il 12 a 7 Anche se ne avevo Tipo 3 Però ho detto Il 12 a 7 Di setole naturali Non è come quello Di setole sintetiche Quindi Quindi questo pennello Non verrà mai più Fatto nel mondo E ho detto Ok Ne prendo uno di scorta Anche se è la versione Piccolina Però è la versione Piccolina Fatta made in Japan Non made in China E quindi Quello di Di ottima qualità E l'ho preso E poi ho preso Appunto anche Gli altri due pennelli Questi qua Me li ha consigliati Lei per il fondotinta Questo è il 141S E questo è il 170 Tutte e due Sono in fibre sintetica E sono ottimi Appunto per la stesura Del fondotinta Mi sono trovata benissimo Ho tenuto anche Lo scontrino per voi Il 141 Costa 38,50 euro Il 170 Che è questo Costa 41 euro E questo qua Invece Costa 25,50 Questo è tutto Il mio shopping Sì dai Sono stata velocissima Oggi Questo è tutto Il mio shopping Di questo Di questo mese Spero tante Di avervi tenuto compagnia E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao